Per i bambini è gravissima, per gli adulti vediamo purtroppo che non faccio il bagnisteo, ho 65 anni quindi non mi turbo tanto facilmente, però... Preside De Rosa, lei di vigilanza si giunga ad un corretto utilizzo delle reti telematiche come movimento di opinione, qual è la nostra associazione? Si è della scuola, non certo secondario a fare il ruolo dei mass media, perché capaci di veicolare messaggi in modo capillare ed efficace, ma i giovani oggi mostrano una crescente disaffezione per i mezzi di comunicazione tradizionali. Si guarda la televisione magari nell'unico momento in cui la famiglia è riunita, a pranzo o a cena e soprattutto c'è un tema per voi molto più ampio che quello vostro nazionale,